L'idea di Fanno e Urbino sempre più collegate non dispiace alla Regione Marche, magari tramite una linea ferroviaria. Il progetto dunque non sarebbe da escludere, visto che si tratterebbe di un repristino che collegherebbe nuovamente la costa all'entroterra, creando così una linea di scambio tra la città dei Cesari e quella dei Duchi. Le ferrovie sono il maggior strumento di mobilità individuato dall'Europa da qui al 2030 e al 2050. Non possiamo precludere il futuro della nostra Regione, delle nostre principali città, quelli che possono essere percorsi ferroviari. Ho dubbi che si possa recuperare tutto il percorso ferroviario della vecchia Fanno-Urbino, ma c'è una legge che preserva quel percorso e quindi noi dobbiamo rispettare le norme dello Stato. La Fanno-Urbino è un collegamento di Fanno con tutta l'entroterra e poi con la ferrovia tramite Pergola e Fabriano, Roma, Ancona, sia fondamentale. Urbino deve essere collegata da un punto di vista ferroviario con il resto d'Italia, ma Fanno deve essere collegata col proprio entroterra. Non possiamo limitare questa possibilità di espansione economica turistica della terza città della nostra Regione. Pensiamo che al sud della Regione Marche, cioè a Civitanova Marche, dove è stata potenziata la viabilità stradale con la Quadrilatero e quindi con la Fuligno Civitanova Marche, in questo momento si sta elettrificando la vecchia ferrovia. Non si è parlato di uno smantellamento, ma di una elettrificazione. Vuol dire che gli amministratori di quel territorio hanno capito che la ferrovia è un potentissimo strumento, un potentissimo volano per l'economia di quel territorio del maceratese. Pensiamo la stessa cosa su Fanno, ovviamente eliminando tutte le interferenze. Non possiamo passare nei giardini delle abitazioni laddove un tempo passava la ferrovia, non possiamo interrompere le strade statali con il passaggio delle ferrovie, ma questo non deve pensare la politica, devono pensare i tecnici a risolvere tutti i problemi di interferenza e di disturbo alla quiete dei nostri quartieri. Noi dobbiamo pensare allo sviluppo e sollecitare alle società dello Stato che questo sviluppo arrivi anche nella terza città delle Marche, potenziando le infrastrutture ferroviarie.